Sulle prossime elezioni europee interviene il segretario regionale della CNA, l'agricentino Piero Giglione, un'Europa più forte, coesa e competitiva per affrontare le sfide del futuro e questo è il titolo del documento che la CNA Sicilia ha inviato ai candidati alle elezioni per rinnovo del Parlamento europeo del 9 giugno prossimo del Collegio Isole. Il documento, nato in seguito a un'indagine sui temi europei condotta su un campione di 1.600 imprese, è stato predisposto dalla CNA nazionale ed è suddiviso in 10 punti, su ognuno dei quali sono state formulate diverse proposte, guidare la trasformazione verde, la sostenibilità energetica, equità e competitività, completare il mercato unico, una rinnovata politica industriale europea, accompagnare le imprese nell'era della transizione digitale, integrazione globale, il ruolo dell'Unione europea nei rapporti con i paesi terzi, costruire il futuro, territori, reti e le infrastrutture, l'evoluzione del lavoro, rafforzare il modello sociale europeo, investimenti adeguati a un nuovo modello economico, una legislazione verso l'approccio attento alle micro, piccole e medie imprese, dialogo tra le istituzioni, associazioni e governi. Questo, quando scritto nel suo comunicato da Piero Giglione, segretario della CNA Sicilia, hanno bisogno di un'Europa che ascolti, tuteli e valorizzi il tessuto imprenditoriale artigianale, fatto prevalentemente di imprese di piccole e medie dimensioni, che rappresentano un importante patrimonio, non solo produttivo, ma anche sociale e culturale. Sono imprese che portano avanti la storia, le tradizioni dei mestieri, dei nostri territori, capaci di innovarsi e produrre beni di alta qualità e servizi di eccellenza. Per questo, conclude Giglione, riteniamo necessario promuovere un'interlocuzione continua con i nostri rappresentanti in Europa.